Sì, sì, ma è ora a te che... Vieni, vieni in mezzo. Vieni, vieni, vieni. Che meraviglia, le cuffie, giusto? Finalmente abbiamo Caterina Righenzi di Sonza. Ciao a tutti, grazie mille per essere state in grossa compagnia, mia e della Caterina Righenzi, tutta bella e scivolosa. Noi ci rivediamo lunedì prossimo, 20.10. Un bacio alle vostre madri, ditelo che me l'ha portato alta, ce la posso fare.